Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone si espande con decisione nel corso della settimana su tutto il Mediterraneo e sull'Italia, garantendo così stabilità e bel tempo anche in Liguria nella giornata di giovedì, con sole prevalente su tutti i nostri settori. Andiamo più nel dettaglio partendo dalla provincia di Imperia, dove avremo una giornata ben soleggiata da mattina a sera, sia sulle costa sia sull'entroterra, bassa la probabilità di annuvolamenti anche sulle Alpi Marittime e dunque la probabilità di pioggia praticamente nulla, con temperature massime intorno ai 27-28 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Savona, situazione simile con venti deboli di brezza, mare generalmente poco mosso e sole prevalente da mattina a sera su tutte le nostre zone. Anche la zona di Genova vedrà una giornata ben soleggiata dall'alba al tramonto, clima ancora piuttosto fresco al mattino nell'entroterra, con temperature minime anche intorno ai 15 gradi, ovviamente più umite lungo le zone costiere. La situazione è la stessa anche sul Tiguglio, dove prevaranno cieli sereni o al più poco nuvolosi per tutta la giornata, con una ventilazione di brezza e mare poco mosso. Infine anche sulla provincia di La Spezia poco altro da aggiungere, la giornata sarà ben soleggiata con temperature tipiche del periodo. La giornata di venerdì vedrà ancora la presenza dell'alta pressione, con cieli pressoché sereni ovunque dal mattino a sera, con temperature in lieve rialzo, valori massimi anche intorno ai 30 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo. Grazie a tutti.